Bentornati per la seconda parte della lezione su Malta in toni scientichi come materiali complessi, espressione della tecnologia produttiva del passato. Allora, abbiamo visto precedentemente un po' come si produce una Malta, molto velocemente, ma probabilmente la fase di studio di una Malta inizia col campionamento, cioè col perievo dei campioni, che io considero come probabilmente la fase più importante all'interno dello studio delle Malte. Una fase che non deve assolutamente essere improvvisata dall'archeometra, dal diagnosta, dal geologo, dal petrografo, ma deve essere pianificata insieme agli archeologi, se stiamo lavorando su un sito archeologico, o agli architetti, che sono coloro che ci pongono le problematiche e che in un certo senso guidano anche il nostro campionamento. E il primo step, ovviamente, è quello di studiare i campioni anche in fase di campionamento e per farlo possiamo, per esempio, utilizzare una lente o addirittura oggi è possibile acquistare con pochissime decine di euro dei video microscopi portatili USB da collegare al nostro smartphone, che ci consentono già di vedere se esistono delle differenze macroscopiche, che poi andremo a verificare il laboratorio tra un campione e l'altro. Le Malte, ovviamente, poi si studiano, essendo dei materiali lapidi artificiali, si studiano come si studierebbe una roccia, quindi per studiare la composizione mineralogica si utilizza la diffrattometria di raggi X, la chimica si utilizza la spettometria a fluorescenza di raggi X, XRF. Per studiare, per esempio, il legante possiamo abbaderci delle analisi microchimiche seguite con il microscopio elettronico a scansione, poi possiamo utilizzare tutta una serie di altre tecniche per studiare dei dettagli, dei particolari finalizzati, per esempio, ad individuarne la provenienza delle materie prime piuttosto che il degrado e lo stato di alterazione delle Malte. Ma c'è una tecnica dalla quale non possiamo assolutamente prescindere, che sta alla base di tutte le altre, senza l'utilizzo della quale noi potremmo commettere gravi errori nell'interpretazione dei dati. Ed è la microscopia ottica a luce polarizzata trasmessa, eseguita in sezione sottile, quindi bisogna ricavare delle sezioni sottili di Malta, da osservare quindi al microscopio petrografico. Vi faccio un esempio. Qui abbiamo una cluster analysis di alcuni campioni provenienti dal sito archeologico di Ierapolis, delle analisi prevalentemente chimiche, fatte utilizzando, mischiando un po' l'analisi chimica degli elementi in traccia e degli elementi maggiori, ma la sola chimica. Vedete che questi due campioni cadono all'interno dello stesso grappolo e cadono molto vicini tra loro. Anche se facessimo delle analisi semplici, bivariate, non multivariate, cioè non utilizzando tutte le variabili chimiche, ma semplicemente utilizzando due rapporti, calcio su magnesio versus silicio sulluminio, osserveremmo la stessa cosa. Osserveremmo anche qui che gli stessi campioni che cadono vicini nella cluster analysis cadono vicini nell'analisi bivariata classica. Quindi se noi ci fermassimo soltanto a questo tipo di analisi, saremmo portati a dire che questi campioni, essendo composizionalmente simili, probabilmente appartengono alla stessa fase costruttiva. Ma se andiamo a eseguire le sezioni sottili, osserviamo due cose importantissime. La prima ci spiega il perché queste due malti cadono molto vicine, perché sono state utilizzate utilizzando come aggregato in entrambe cocciopesto, cioè frammenti di ceramica e laterizio frantumati. Soltanto che mentre nella malta di sinistra il cocciopesto è il solo aggregato, nella malta di destra, oltre al cocciopesto abbiamo numerosissimi frammenti di travertino, che è una roccia comunissima nell'area archeologica di Ierapolis in Turchia. Quindi mai fermarsi alla sola analisi chimica, sì, si deve utilizzare, ma i raggruppamenti vanno verificati in petrografia al microscopio ottico, luce polarizzata, trasmessa, nordiflessa, trasmessa. E per farvi capire quanto complesse sono le malte, vorrei farvi vedere alcuni esempi che provengono da alcuni casi studio un po' da tutto il mondo. Queste sono delle malte tipiche pozzolaniche, in cui l'aggregato è fatto esclusivamente da pozzolana, cioè un materiale vulcanico. Vedete come la cenere del Vesuvio, dell'area archeologica di Pompei, ma all'interno dello stesso sito archeologico possiamo trovare malte in cui l'aggregato è fatto soltanto da cocciopesto. Questa è una malta dell'area del castello di Rocca Imperiale in Calabria, in cui l'aggregato, cioè la sabbia che è stata utilizzata all'impasto, è fatta da frammenti esclusivamente granitici. E questa invece è una malta romana del sito archeologico di Pollentia, a Maiorca, in cui i clasti, l'aggregato e la sabbia è costituita esclusivamente da bioclasti, cioè frammenti di foraminiferi. E qui ancora una malta di un sito medievale del Donoratico, vicino Siena, in cui all'interno delle malte è possibile ritrovare tantissimi frammenti di vetro artificiale. E ancora una malta azteca del Templo Maior, in cui l'aggregato è costituito solo ed esclusivamente da pomici. E all'interno dello stesso sito, all'interno dello stesso tempio, sempre una malta azteca in cui abbiamo una complicazione incredibile, cioè all'interno dell'aggregato è stata utilizzata appunto come aggregato delle malte riusate, provenienti probabilmente da qualche crollo. Quindi attenzione quando si date una malta, questa potrebbe essere un'ulteriore complicazione quando si utilizza per esempio il carbonio 14. È possibile trovare all'interno di una malta frammenti riutilizzati di malte antiche. E allora per evitare errori grossolani dobbiamo studiare sempre ed esclusivamente le malte in sezione sottile e poi utilizzando anche altre tecniche, ma sempre la microscopia ottica. E oggi adesso vorrei farvi vedere anche un caso studio interessantissimo, non posso farvelo vedere nella sua completezza perché abbiamo pochissimo tempo. Queste sono delle malte che abbiamo prelevato dal sito archeologico di Pompei all'interno della casa di Panza, questa qua che si trova nell'insula 6, ed era una casa che si prestava alla verifica del nostro modello di ricognizione delle fasi costruttive. Volevamo vedere se all'interno di una casa né piccola né grande si potevano riconoscere con gli studi composizionali le fasi costruttive. E abbiamo campionato le malte, le abbiamo studiate al microscopio ottico, luce polarizzata trasmessa, le abbiamo studiate con la chimica. Questo per esempio è un dendrogramma di cluster analysis ottenuto utilizzando simultaneamente le variabili chimiche degli elementi maggiori effettuati sul talquale, sul bulk, e la microanalisi per esempio del legante. Si osservano tre raggruppamenti ben definiti che si osservano anche se utilizziamo un diagramma tridimensionale in cui si utilizzano il rapporto magnesio-alluminio, silicio-alluminio e zirconio-cromo. Ma attenzione, ve lo dicevo già prima, sì abbiamo tre gruppi di malte composizionalmente chimicamente simili che potrebbero appartenere a tre fasi costruttive diverse, ma attenzione, questa verifica deve essere fatta al microscopio ottico, luce polarizzata trasmessa, dove effettivamente abbiamo verificato che questi gruppi di malte hanno caratteristiche petrografiche peculiari, molto particolari, che non sto qui a ripetervi perché abbiamo pochissimo tempo. Comunque se noi andiamo poi a plottare su una cartina della casa di panza, questa in alto, e andiamo i campioni colorando, attribuendo lo stesso simbolo ai campioni che hanno la stessa composizione, si osservano cose estremamente interessanti. È così che noi ricostruiamo le fasi costruttive. Per esempio tutti i tondini neri si concentrano attorno all'atrio principale della casa. Allora questo molto probabilmente è il primo nucleo sannitico, cioè la prima fase costruttiva della casa di panza. E poi abbiamo una fase più vasta, quella dei triangoli verdi, interpretabile molto probabilmente con la fase romana, posta quindi un ampliamento della casa sannitica. E poi abbiamo dei campioni blu che ricadono in modo casuale, random, che non ci spiegavamo. Poi siamo andati a verificare in situ e questi campioni stanno su parte delle murature parzialmente ricostruite. E perché? Perché a Pompei nel 62 d.C. ci fu un terremoto devastante che distrusse gran parte di Pompei. La casa di panza probabilmente parzialmente e crollò, venne ricostruita, quindi questa è la terza fase. Abbiamo verificato quindi che le malte sono un ottimo strumento per studiare le fasi costruttive. Ma adesso volevamo verificare, l'abbiamo fatto sul Templo Mayor, se effettivamente questo metodo in qualche modo desse risposte fosse verificato e l'abbiamo fatto nel 2011. Come? Campionando Malte dal Templo Mayor, città del Messico, che è il tempio azteco religioso più importante costruito intorno al 1300, di cui si sapevano, si conoscevano benissimo le fasi costruttive. Gli aztechi costruivano queste piramidi a guscio e ogni guscio è una fase costruttiva. Quindi qui avevamo un vantaggio. Sapevamo già che le malte che campionavamo appartenevano alla fase 2 piuttosto che alla fase 3, piuttosto che alla fase 4, piuttosto che alla fase 4A o 4B o 5 o 6 o 7. Quindi all'interno di queste lì sì abbiamo inserito i campioni che appartengono sicuramente alla stessa fase ma vedendo delle cose un po' contraddittorie. Osservando cosa? Per esempio all'interno della fase 2 si osserva che ci sono campioni molto simili ma differenti per aggregato, leggermente per composizione. Addirittura guardate nella fase 4 palesemente abbiamo un campione in cui si usa come aggregato il tezontle che è una sorta di pozzolana rossastra che si cava vicino a città del Messico e nella stessa fase costruttiva troviamo malte in cui il tezontle non esiste. E allora il nostro metodo non funziona? Stiamo sbagliando qualcosa? Lo stesso si vedeva per esempio nelle altre fasi, nella fase 4B abbiamo campioni con malta riutilizzata, riciclata, campioni fatte da un aggregato totalmente diverso e queste differenze, queste particolari complessità confermano un po' che il tempo maggiore è l'eccezione che conferma la regola. Pensavamo di aver sbagliato qualcosa, in realtà abbiamo risposto a una questione archeologica importantissimo, l'abbiamo provata. Gli archeologi pensavano da tantissimo tempo che gli imperatori quando ordinavano la realizzazione di una nuova fase del tempio chiamassero le popolazioni vicine di paesi vicini al templo maior, vicini non vicinissimi, anche abbastanza lontani, diciamo anche diversi chilometri, che dovevano pagare pegno come con manovalanza e fornendo materie prime. Quindi all'interno di una stessa fase costruttiva esistevano maestranze che provenivano da un paese piuttosto che da un altro e ognuno si portava le sue materie prime. Quindi abbiamo verificato che all'interno del templo maior questa cosa in qualche modo si verificava, confermando un'ipotesi di tipo archeologica che è quello che di solito facciamo noi archeometri, cerchiamo di verificare o confutare talvolta le ipotesi di tipo archeologico o storico. E poi del templo maior ne abbiamo studiato delle malte anche la provenienza delle materie prime, in questo caso dei calcari utilizzati per preparare la calce. Abbiamo realizzato un database composizionale campionando le cave che si trovano intorno a Città del Messico, Teotihuacan, Città del Messico sta qui, qui c'è Teotihuacan, il templo maior quindi sta all'interno di Città del Messico e le nostre cave di calcari stavano a Tula, a Quernavaca e a Puebla. Abbiamo studiato, ritrovato, rintracciato i grumi di calce all'interno delle malte che rappresentano il materiale più simile composizionalmente e chimicamente ai calcari di partenza e l'abbiamo confrontato con i diagrammi discriminanti delle cave, scoprendo che tutti i grumi di calce delle malte del templo maior cadevano all'interno del campo composizionale di Tula. Quindi i calcari provenivano praticamente da qui, che ovviamente è anche abbastanza vicino al sito archeologico. Ecco, abbiamo fatto qui una brevissima introduzione, vi potrei parlare per settimane di Malte, ovviamente non abbiamo il tempo, questa è un'introduzione relativamente breve per chi vuole cominciare ad avvicinarsi a questo tipo di studi. Se volete approfondire l'argomento che vi darà anche il filo per andare a cercare altre pubblicazioni, potete consultare la voce che ho recentemente fatto nell'enciclopedia di scienze archeologiche pubblicata dalla Willey e andate a cercarvi la parolina Ancient Mortals and Plasters e lì troverete anche degli approfondimenti. Vi saluto e grazie per l'attenzione e grazie all'AIA per avermi ospitato sul loro cranale, che vi invito a seguire costantemente perché sicuramente saranno caricati altri video come questo. Grazie.